Oh, che bel tongue-clicking per una volta. Ups a tutti, mi cari Upsi, Upsi, come state? Come state? Qua va sempre più caldo, ma noi continuiamo ad esserci. Comunque, cosa farò oggi? Allora, volevo fare un video, tralasciando le mie condizioni, dedicato alla buonanotte. Però non volevo fare il classico, la classica cosa che ritagliavo i pezzi di buonanotte dei miei video. Li univo in un unico video e li pubblicavo. Non mi piace questa cosa, quindi non mi piaceva. Volevo registrare un video a parte, dedicato alla buonanotte proprio. Infatti in questo video mi sono segnato dieci lingue e dirò la buonanotte in queste dieci lingue. Quindi ripeterò un po' di volte la stessa parola. Perciò, tralasciando veramente il caldo assurdo, spero che le luci mi mettano bene a fuoco. Perché a volte sono troppo illuminato, sono messo a fuoco male. Non lo so, cioè vi giuro, non lo capisco più neanche io cosa devo fare. Spero, spero vada tutto bene. Comunque, la prima lingua ovviamente è lì dell'anno, perciò iniziamo con le buonanotte. Buonanotte 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 Per alcune lingue dovremmo sentire come si pronuncia con il traduttore perché non è la più palida idea. Buonanotte Passiamo all'inglese Buonanotte 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 Spero anche di essere al centro dell'inquadratura perché a volte non lo sono. good night 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 adesso passiamo al francese giusto controlliamo un attimo se è giusto si è giusto buon 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 Non capisco perché la lettera B sembra che sputo sul microfono Pono, 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 come il locale di Veronica di Ripertino Pono, 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 Pono Adesso abbiamo lo spagnolo, quindi, Buenas Noces, Buenas Noces, questo è super tricheroso, Buenas Noces, 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 Buenas No Buenas noches Adesso dovremo avere il te disco, ma non la più palida idea Non ho la più palida idea Ah, guten Nacht, penso sia Sì, penso sia guten Nacht Guten Nacht Pure questo è rilassante secondo me Guten Nacht 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 ok, la prossima lingua è la cinese e dovremo sentire perché non lo so risentiamo ok dai, allora dovrebbe essere oi an 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 Qua'an Passiamo al prossimo dai Allora, il prossimo è in Hindi Ecco, prepariamoci Ok, allora Super a 3 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 Dobbiamo fare veloce quindi Passo alla prossima che è il russo Spokoi noi noci Buona notte dai Spokoi noi noci 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 Cambiamo dai. Dopo il russo abbiamo, scusate, abbiamo ancora solo due lingue giapponese. Ok, dai, questo è semplice. Poi assami. 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 Passiamo all'ultimo veloce perché va troppo caldo per continuare. E poi vedete c'è un lunghetto. Che è l'arabo. Poi assami. Poi assami. Poi assami. Poi assami. TAPE MASA VUGEN TAPE MASAVUKAN Quindi, senza dire altro perché vi ho già detto buonanotte troppe volte, ci vediamo direttamente a un prossimo video. Voi ormai lo sapete, qua c'è un video precedente con una playlist e qua il tasto per andare sul mio canale, perciò ci salutiamo. Oggi è un po' di fretta ma è così. Vi ho dato la buonanotte tutto il tempo perciò non so più cosa dire, quindi buonanotte e un bacio. Ci vediamo al prossimo video. 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 Ci vediamo al prossimo.